Come faccio a scegliere quale università fare? Allora, ragazzi, per scegliere quale università fare cercate di non farvi imporre dagli altri è difficile, ok? Perché vi viene molto da quello che vuoi fare tu cercate di non farvi imporre dagli altri quello che volete fare cercate di capire prima com'è il lavoro che volete fare per esempio, ci sono tanti studenti che si sono iscritti a medicina perché hanno visto o Scrubs, o Graysonatomi, o Dottor House o io che mi sono iscritti a giurisprudenza perché guardavo Bosto Legal o magari guardi Suiz, ti innamori dagli avvocati e quindi dice ah, mi voglio iscrivere a giurisprudenza non scegliete in base alle serie tv scegliete in base a qualcosa che vi fa battere il cuore cioè andate in tribunale, andate in pronto soccorso parlate con gli ingegneri, parlate con gli avvocati cercate di parlare con delle persone che veramente vi possono far capire come è fatta la professione e fate una cosa che vi porterà non a me piace la materia, non significa niente a te ti deve piacere quel futuro ti deve far battere il cuore quel futuro capito? Quella è la cosa importante che è la cosa importante che è la cosa importante